E' stato il momento che è arrivato e abbiamo vissuto con la peggiore amministrazione municipale e cittadina. Basta! È il momento di cambiare davvero tutto, come dice Ignazio Marino, per conquistare la città. E noi saremo i protagonisti di questo cambiamento in un ruolo che ognuno di noi ricoprirà, incarnandolo con questa concezione, con l'idea che davvero il cambiamento passa da qui e oggi passa da qui. Grazie a tutti.